E' chiaro che poi lì si innesca il meccanismo che il giocatore ha toccato comunque la palla, però io dico un'altra cosa Ma io dico io vengo davanti a te, no? Bravo, vieni qua Ma non abbiamo il pallone, se no lo facciamo col pallone Faccio io, faccio il pallone Iconè, no? Quando sai che stai andando verso la porta e vedi che ti arriva... Cioè io sono Iconè, cioè Nanzi io sono Tomori Tu sei Tomori, io sono Iconè, andiamo leggermente avanti Quando tu cerchi di... perché io so che tu tenti di intervenire Io faccio questo lavoro E io ti tocco e tu vai in te No, tu mi dai un colpo qui alla caviglia o dove? Ma la palla non te la faccio mai prendere io Allora dove dico tante volte la malizia non è che deve andare a rubare o a cercare qualcosa che non ti appartiene Ma lì se lui copre la palla, se lui fa questo movimento automaticamente gli danno il colpo La palla gliela allontani dal corpo Se Iconè avesse... E Tomori arrivava anche a Montreno Sì, ma a me mi avrebbe fatto un favore Anche se arrivava un pochino meno veloce Ma io non ti do modo di andare a toccare la palla E quindi se mi tocchi solo a me cazzo di rigore L'impatto è sicuro Lì dove non ha usato la malizia Iconè è questo L'impatto è sicuro